E' una bella iniziativa, credo che vada a completare una gamma di prodotti che il mercato di Campania Amica offre in questo territorio e speriamo che abbia il successo che ha avuto questo mercato. E' un'ulteriore iniziativa di Campania Amica di Coldiretti che ci sta supportando ormai da diverso tempo per dare la possibilità in un momento di crisi come questa di avere prodotti freschi a un costo inferiore nell'ordine del 20%. Abbiamo le verdure e adesso da oggi in poi qui sotto la galleria Votila abbiamo anche il pesce fresco che la motopesca Yolanda viene a vendere direttamente qui a noi. Quindi è un grande servizio sulla qualità e anche sul costo del prodotto. Un pesce pescato questa mattina alle 4 e portato alle 8 sui banchi sia un evento straordinario per questa zona ma soprattutto straordinario per i consumatori che avranno modo di apprezzarne la freschezza, la qualità e soprattutto le proprietà che rimarranno inalterate nel momento in cui verrà cucinato. La prima cosa che mi verrebbe da dire è l'affidabilità dell'amministrazione comunale nel raccogliere tutte le stanze che questa associazione sta facendo. La realtà è che noi siamo così orientati nell'andare incontro ai cittadini che qualsiasi iniziativa metto loro nella condizione di poter avere prodotti a costi inferiori e per noi già questo è un risultato positivo.